amici di battista 70 phone oggi vi presento una bella cover ultra slim tpu per il bellissimo huawei nova come potete vedere la cover è molto sottile 0,3 mm interno zigrinato per non creare delle antiestetiche bolle una cover che aumenta anche il grip come andremo a vedere adesso andiamo ad infilarlo come vedete calza alla perfezione rimane inalterata la bellezza del terminale la fotocamera rimane protetta e comunque c'è questo 0,3 mm che ci consente di appoggiarla al tavolo senza graffiarla il sensore delle impronte è ben accessibile come potete vedere non crea nessun tipo di problema come ben accessibili risultano essere tutti i vari fori qui l'ingresso usb type c qui il lo speaker del volume da questo lato rimane coperto come sempre l'ingresso per micro sd più nano sim sopra ben accessibile jack da tre e mezzo il forerino per la riduzione del rumore da questa parte rimangono coperti come sempre il tasto di avvio spendimento stand by e il bilanciere del volume il grip come vi dicevo aumenta i tasti funzionano alla perfezione come potete vedere volume su spegnimento torniamo indietro scusate volume giù e chiudiamo il display come potete vedere molto molto bella non altera per niente la bellezza del vostro terminale e al solito la trovate nel nostro shop con questo concluso un saluto da loris alias battista 70 per battista 70 a fondo